I titoli di oggi. Fondi europei per la non autosufficienza. Le vaccinazioni anti-influenzali. Austerità, la parola d'ordine della manovra. L'amont contro la diga del vanoi. Ci risentiamo fra pochi secondi dopo la pubblicità. Fondi europei per la non autosufficienza. Sono stati stanziati i fondi per la non autosufficienza, un provvedimento della Regione Veneto che aiuta ma non raggiunge tutti. In provincia di Belluno sono circa 6.000 le persone non autosufficienti, ma saranno solo 462 coloro che potranno avere il beneficio di circa 400 euro mensili. Va detto che sono previsti aiuti per le persone in struttura, allargati anche a chi è in lista d'attesa per un posto letto in RSA e per chi è grave pur risiedendo nel proprio domicilio. Sono risorse destinate alla persona colpita da non autosufficienza, con un punteggio della scheda svama maggiore di 70 e un ISEE sociosanitario non inferiore a 40.000 euro. Il contributo potrà essere utilizzato per supportare le attività della vita quotidiana, sia che l'anziano abiti da solo, sia in co-housing. Nel caso dei servizi in struttura, sosterrà invece le prestazioni di residenzialità sociosanitaria e la parte di assistenza tutelare ed alberghiera. Questa è una prestazione che viene assegnata su richiesta, ovvero tramite domanda, ed è in forma sperimentale. È da sperare che gli interessati vengano a conoscenza dell'opportunità. Auspichiamo abbia successo e possa quindi essere ampliata. Non si può infatti presentare come risolutivo un intervento destinato solo a 462 persone, quando tutti gli anziani non autosufficienti della provincia, come dicevamo prima, sono oltre i 6.000. La situazione sociale dei pensionati di Belluno, con pensioni basse e rete familiari quasi inesistenti, richiederebbe però un sostegno strutturale ed un aiuto a trovare personale che deroghi i servizi a domicilio. Gli sportelli SPI-CGL sono a disposizione per dare informazioni. Il tempo massimo per la presentazione è entro il 3 dicembre presso gli sportelli dell'ULS di Belluno. Vaccinazioni anti-influenzali Partite lunedì 7 ottobre le vaccinazioni anti-influenzali, che si sono dimostrate un valido aiuto per prevenire i malanni dell'inverno. Le prenotazioni online quest'anno richiede l'accesso con lo SPI o con la carta di identità elettronica, e ciò è piuttosto complicato per le persone anziane. Molto spesso gli over 65 hanno bisogno della prenotazione perché devono farsi accompagnare. Lo scorso anno era sufficiente inserire il codice fiscale. Austerità La parola d'ordine della manovra Con qualche giorno di ritardo sulla data prevista da Bruxelles, il governo ha presentato il piano strutturale di bilancio, strumento di nuovo conio, figlio delle nuove regole del patto di stabilità e crescita, avvallate da questo governo nel Consiglio europeo. Come ormai è d'abitudine, Meloni e i suoi ministri hanno scritto tutto in totale solitudine, senza alcun confronto né con le altre forze politiche né tantomeno con le parti sociali. Peccato che il piano sarà in vigore per i prossimi sette anni, impegnando quindi anche chi andrà a Palazzo Chigi dopo Meloni. Nessun confronto, dimostrando una sicurezza sulla prossima legislatura che rasenta l'arroganza. In ogni caso, la gestione economica e finanziaria di un Paese non è cosa solo di chi lo governa, ma di tutti gli autori economici e sociali. I sindacati hanno assistito ad un'audizione parlamentare sul testo, finalmente consegnato alla Camera e al Senato. Null'altro. Cristian Ferrari, segretario confederale della CGL, è intervenuto giovedì 3 ottobre davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato, riunite in seduta congiunta. A lui chiediamo di illustrarci il contenuto del documento e la valutazione della Confederazione. La direttrice economica ci riguarda e come? Solo che veniamo convocati soltanto per ricevere informazioni su decisioni già prese. Le nostre considerazioni, le nostre critiche e le nostre richieste al più vengono ascoltate, ma fino ad ora mai tenute in considerazione. Anche in questo caso, nonostante stiamo parlando di un piano che indica in maniera vincolante e pressoché irreversibile la traiettoria delle politiche economiche per un arco temporale che va al di là dell'attuale legislatura, il Governo ha deciso di procedere in maniera autoreferenziale, limitandosi per l'ennesima volta ad una mera comunicazione di orientamenti già assunti. Difendersi dal lupo si può Si è da poco concluso un progetto durato ben 5 anni che ha visto il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi lavorare a fianco di altre aree protette per migliorare la coesistenza fra lupo e attività umane. Sono noti i problemi che il ritorno naturale del lupo, importante dal punto di vista ambientale, ha comportato nell'arco alpino negli ultimi anni, a partire dai contrasti con gli allevatori a causa delle predazioni di animali domestici. A questo ha cercato di rispondere tramite azioni concordate il progetto Favorire la coesistenza del lupo, coordinato dal Parco delle Alpi Marittime che ha visto il coinvolgimento di 20 partner sparsi nell'arco alpino tra la Francia, l'Italia, l'Austria, la Slovenia. Grazie all'iniziativa, il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi in 5 anni di attività, ha acquistato e fornito incomodato gratuito ad oltre 60 allevatori, altrettante recensioni elettrificate che hanno permesso di difendere gli animali domestici dagli attacchi del lupo. La conferma positiva arriva dai dati. Tra il 2020 e il 2024, infatti, hanno pascolato nel Parco oltre 10.800 animali e sono state registrate e risarcite 16 predazioni con un'incidenza dello 0,15%. No alla diga del Vannoi CGL e SPI a Lamont Il 5 ottobre anche la CGL e lo SPI erano presenti al presidio di Lamont contro la realizzazione della diga. La diga del Vannoi non deve essere costruita perché è un'opera inutile, dannosa, pericolosa. È inutile perché per le necessità d'acqua della pianura possono esserci altre soluzioni, anche più moderne, più ecologiche, più sostenibili. Ad esempio, la ricarica delle falde sotterranee o lo sghiaiamento e la manutenzione dei bacini esistenti. Urgente poi diventa il miglioramento della rete idrica per evitare gli sprechi d'acqua o l'utilizzo di cave dismesse per fare nuovi invasi, il raccoglimento dell'acqua attraverso le aree forestali di infiltrazione. Le monoculture agricole dovrebbero essere sostituite in favore di altre coltivazioni. Tutte pratiche meno esose che però non fanno arrivare fiumi di denaro con la costruzione di uno sbarramento al torrente che scende dalle pale di San Martino, il Vannoi. Il progetto in questione prevede la realizzazione di una diga sul torrente al confine tra la provincia di Trento e il Veneto e sarebbe situato principalmente in provincia di Trento, nella Val Cordella. In teoria l'invaso sarà un'opera di 116 metri con 245 mila metri cubi di calcestruzzo che conterrà circa 33 milioni di metri cubi d'acqua. E dove ci sono soldi ci sono anche interessi, spesso poco trasparenti. Tant'è che l'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha sollevato una serie di dubbi in relazione all'affidamento della progettazione. Infine è un'opera dannosa, perché un bacino di quella portata devasterà la Val Cordella, uno dei rari luoghi in cui la natura è selvaggia. A niente ralva noi, uno dei pochi torrenti, ancora naturali sulle Alpi, unico luogo di riproduzione della trota marmorata, specie a rischio di estinzione. È un'opera pericolosa, perché vogliono costruire l'invaso in una valle classificata a massimo rischio idrogeologico. Se ci fosse un'esondazione, sparirebbero i comuni fino a 70 km di distanza dal bacino. Non possiamo non pensare al disastro del Vajont, di cui è appena stato il 61esimo anniversario, che ha provocato una strage, definita strage di Stato, con circa 2.000 persone morte e un dolore mai sopito, che ha devastato i sopravvissuti estratti dal fango nella notte del 9 ottobre 1963. Manifestazione dell'ospice G.L. a Padova il 29 ottobre. Un autunno di proteste e di richieste è quello che stiamo vivendo come pensionati. Siamo stati in piazza Settembre a Verona nella manifestazione sulla sanità organizzata dalla Via Maestra, in unione con le associazioni e la CGL. Ci ritroviamo al 29 ottobre in piazza Cavura a Padova, soprattutto per far capire la nostra condizione materiale, per chiedere l'adeguamento del potere d'acquisto delle pensioni, per dire che noi paghiamo le tasse e ci sentiamo vessati se si continuano a rilasciare condoni agli evasori, contro il governo che favorisce i corrotti e inasprisce le regole per le proteste, per richiedere una sanità pubblica efficiente e per tutti, perché invece dell'aumento delle pensioni basse si allarghi la platea dei beneficiari della quattordicesima, contro l'autonomia differenziata che fa entrare la logica della competizione nella gestione delle regioni. L'ospice GL sta organizzando un pullman. Per partecipare o per avere informazioni, chiamate Maria Rita al numero 340-655-1229. Grazie per averci seguito. Ci risentiamo come al solito fra 15 giorni con le informazioni dell'ospice GL di Belluno. Grazie per averci seguito.